I bambini si sono dati da fare per recuperare questo fazzoletto di terra nell'ex manifattura tabacchi di Bari, contenitore simbolo utilizzato purtroppo solo in parte per il mercato rionale di un quartiere da valorizzare. Lo cureranno gli stessi bambini, alunni del circolo Collodi insieme ai ragazzi dell'oratorio del Redentore. È solo una delle iniziative nell'ambito del progetto Finisterre che mira la riqualificazione socioculturale del territorio dell'ottava circoscrizione attraverso, ad esempio, la valorizzazione di spazi perduti, dimenticati o sottoutilizzati per far vivere progetti di cultura, di teatro, anche di commercializzazione, come appunto l'ex manifattura. Se l'amministrazione comunale fosse in grado di riutilizzare questa struttura, la manifattura di tabacchi, anche facendo coesistere il mercato con una serie di presenze associative, di laboratori, di spin-off, qualcosa che dia la possibilità di esaltare i talenti e la creatività che c'è nella nostra città. Idee raccolte dall'associazione internazionale Learning Cities. La prima esigenza emersa è un nuovo dialogo tra pubblico e privato e soprattutto nuovi spazi. L'idea è quella di costruire soluzioni sostenibili. Nessuno ha pensato, diciamo, di raccogliere fondi pur di sopravvivere. L'altro grande tema è stato quello di puntare al commercio di prodotti che potremmo definire equi solidali, anche se fuori dalla logica dell'equi solidale del terzo mondo, perché si pensa a un coinvolgimento del cittadino. In particolare c'era un progetto sulle piante di bambù, uno sulla canapa, intesa come canapa per la corderia, dalla quale si possono produrre moltissimi oggetti. Ma poi c'era la scuola d'armi che ha proposto diversi laboratori. Finisterre proseguirà in estate dal 15 giugno al 15 luglio un mese di sport, musica e spettacoli proposti da 400 ragazzi dell'Oratorio del Redentore.